Un sostegno per tutte quelle attività che maggiormente hanno risentito del Covid. Arriva direttamente nella bolletta della Tari, la tassa dei rifiuti e l'iniziativa parte da Rosà, uno dei primi comuni ad attuare tale sgravio, grazie anche ai fondi arrivati dal governo. Rosà ha circa 1.300 aziende, di cui le abbiamo divise in aziende che hanno utenti che hanno da 0 a 1.000 euro di Tari variabile e su questo abbiamo coperto l'87% delle aziende, naturalmente soprattutto sulle aziende che abbiamo la certezza che sono state chiuse. Per le aziende che vanno oltre i 1.000 euro di Tari variabile, come bar e ristoranti, il Comune copre interamente la spesa. Alle restanti aziende arriveranno invece 500 euro di contributo. La somma erogata in totale sarà di circa 170.000 euro, di cui 130.000 statali. Ma non è tutto perché si è pensato anche ai commercianti. Quelli che devono aprire siamo accorti che hanno bisogno di liquidità. Stiamo lavorando con i commercianti per poter essere parte attiva su un rilancio naturalmente per dei contributi a tasso molto agevolato.